Siamo ad un anno esatto di distanza dalle elezioni amministrative che desegneranno il futuro sindaco di Pesaro dopo due mandati di Matteo Ricci e a 12 mesi di distanza Fabrizio Oliva, ex presidente di APA Hotels, è il primo candidato alla poltrona di primo cittadino. Oliva, una vita trascorsa nella politica turistico-alberghiera delle territori, ora un salto nella politica con la P maiuscola diciamo. Certo, io ho fatto una scelta di candidarmi e di entrare in campo un anno prima perché sono un candidato di una lista civica che sto componendo, non ho necessità di tessere alleanze o trame con forze politiche o con partiti o con storie della città che non appartengono alla trasparenza e quindi ho scelto di scendere in campo perché credo che in questa città sia arrivato il momento di dare una svolta soprattutto per quello che riguarda la politica turistica ma soprattutto per l'economia della città. Il turismo è un punto focale della città perché come più volte si parla il PIL ha un numero importante anche per la nostra città ma se si vuole fare turismo in una città bisogna crederci fino in fondo, non bisogna fare le cose a metà. Quindi il primo appunto, il mio primo obiettivo è comunque trasformare il lungomare in un bel lungomare e quindi fare un intervento duraturo, quindi fare un investimento perché oramai tutte le città limitrofe lo hanno fatto e non fare un arredo diciamo provvisorio tutti gli anni. Turismo che inetabilmente è un discorso che si lega ai lavori pubblici che spesso diventano una prospettiva ma anche un ostacolo. L'altro argomento importante sono i lavori pubblici che non riguardano solo la zona mare perché oltre il controllo dei cantieri, qui abbiamo due esempi eclatanti che sono un boomerang per la città che sono il Palace Cavolini e il cavalcavia della stazione del treno, che sono opere che sono iniziate da anni che non vedono mai la loro fine. In più una volta che si realizzano le opere, guardiamo quel poco di arredo urbano che è stato fatto sul lungomare, bisogna pensare anche alla manutenzione perché non solo bisogna spendere o investire i soldi per realizzare le opere ma poi bisogna spendere anche i soldi per la propria manutenzione affinché rimangano belle nel tempo. Andando più sullo specifico del settore turistico alle porte dell'estate appena iniziata in questo mese di giugno, il tema Movida torna d'attualità fino ai primi giorni di giugno? Sì, il tema della Movida torna d'attualità perché praticamente si è iniziata la stagione turistica in modo esagerato, cioè la Movida si sta impossessando praticamente del lungomare. Ora le due cose sono incompatibili per cui voglio dire la Movida va tolta praticamente da Velle Trieste, questo non significa far morire o rendere una città morta ma significa controllare questo tipo di situazione per cui sicuramente fino alla mezzanotte si potrà, secondo il mio programma, voglio dire fare musica, fare iniziative di spettacolo eccetera perché ovviamente il turista che viene non deve trovarsi di fronte a una città spenta ma non è possibile esagerare come è stato fatto in questo inizio di stagione dove vocalist, musica da discoteca fino alle due di notte che non danno solo fastidio alle attività alberghiere ma danno fastidio anche ai residenti perché ovviamente in questi due fine settimana la musica entrava nelle camere da letto fino alle due di notte e quindi anche la gente e i residenti non riuscivano a dormire. C'è un anno di lavoro per costruire questa candidatura? Inevitabilmente la politica di professione busserà anche alle porte di Oliva per costruire questa alleanza? Ma io guardi, io in realtà sto lavorando con imprenditori, commercianti, cittadini normali i quali comunque in questi giorni, già in questi pochi giorni molti si sono avvicinati perché vogliono entrare in lista. Ovviamente la lista non è precostituita, penso di poter fare una lista dove ci sarà un forte equilibrio tra la presenza di donne e uomini e diciamo fra pochi mesi presenteremo la lista proprio anche con i candidati. Grazie. Grazie a tutti.